Ecco, adesso riprendiamo il nostro incontro e do volentieri la parola a Iolinda Becirai dal British Institute of International Comparative Law di Londra, che ci parlerà sul tema l'Italia, le crisi e lo stato di diritto di fronte al sistema di monitoraggio internazionale per la protezione dei diritti umani. Iolinda, hai la parola. Allora, anche il mio intervento sarà in inglese, comunque inizio con ringraziare il professor Nesi e il professor Pertile per l'organizzazione di questo evento e soprattutto per aver avuto l'idea di portare insieme queste due, o meglio, diverse prospettive. And especially this interdisciplinary approach is particularly important because, as it was already said, as Europe struggles to contain its financial and economic problems, it might be easy or even maybe handy to forget the broader non-economic context relating to Europe's, I will call them, troubled waters. Elements such as falling productivity, population stagnation, excessive debt, it was already mentioned, unpredictable labour markets, and difficulties of welfare states of the European nations are understandably an important part of the debate on the economic crisis. But at the same time, it is equally important to stress that they do not occur, as someone already mentioned, within a political, cultural, and especially from ours' perspective, a legal vacuum. This relates to my presentation today because among the many non-economic factors characterising Europe's current crisis, there is one which, because of its seriousness, has been receiving increasing attention. Namely, it is perceived that there is an emerging rule of law deficiency, rule of law crisis, rule of law problem within the European Union. So I will start by briefly addressing the issue of the definition of the rule of law to the extent that it is possible. Summarising it concisely, the rule of law concerns the manner in which we ideally want to organise our society through law. There are, however, certain elements and aims that are inherent to this concept. While it can be defined in many ways, so there is no single definition of the rule of law, and it may, of course, include different elements, it is basically concerned with the control of public power through law, and it is aimed at the protection of the individual from arbitrary governmental power. So the focus of this presentation is Europe, which makes things a little bit easier, because it can be safely affirmed that in this context there is a generally accepted view of the rule of law. The rule of law is one of the basic principles on which rests the Organization for Security and Cooperation in Europe, the OSCE, and it informs the working of the European Convention of Human Rights, being one of the central aims to which it aspires. The rule of law concept is mentioned in the preamble of of the Convention, the European Convention of Human Rights, in the case law of the European Court of Human Rights, and has repeatedly acknowledged that the rule of law is part of the common heritage of the European states. Now, coming back to the issue of the definition, the rule of law is both a universal principle and a flexible one that enables it to be adapted to the different national context. It can also be construed, and this pertains more closely to the definition, as a layered concept with a formal core to which substantive layers then can be added according to the different national jurisdictions. Therefore, definitions of the rule of law mostly consists in an enumeration of its elements. One of such definitions have been given, have been provided or developed by the European Commission for Democracy through law, an advisory body operating in the context of the Council of Europe, otherwise known as the Venice Commission, which in a 2011 report suggested the six ingredients of the rule of law. On which, according to the Commission, there is consensus at the European level. These include, first of all, legality and legal certainty, including transparent, accountable, and democratic process for enacting the law, access to justice before independent and impartial courts, including judicial review of administrative acts, and non-discrimination and equality before the law and respect of human rights, which provides this, as I said, substantive element to the definition of this concept. Now, why is the rule of law important? Once it is defined through these different elements, the formal ones, so legality and access to justice, and substantive one, protection of human rights and non-discrimination, why is the rule of law important? In literature, there is a generally recognized link between the rule of law and economic performance. It was mentioned before that the rule of law facilitates investment and inclusive growth, so not just growth, but inclusive growth, meaning a growth that also pays attention to inequalities, to reducing inequalities. For instance, this is possible by fostering predictability and stability, by combating corruption, illicit financial flows, transparent and capable institutions, etc. So, it is an instrument for restricting the ability of governments and public officials to act arbitrarily, because the rule of law is the opposition, which is the opposite of arbitrariness. And it advances accountability. However, it has recently been a knowledge that throughout Europe, the continent where the very idea of the rule of law was first developed in its most sophisticated forms, there is an emerging rule of law problem. And this has been been alerted by different sources, academia, media, civil society, and notably, most recently, in a report by the Secretary General of the Council of Europe, in a report that he published in May 2014. The analysis of the report is based on the findings of the Council of Europe monitoring mechanisms and and bodies. And the report, unfortunately, or maybe on purpose, certainly on purpose, doesn't name the specific countries concerned, so the countries that have violated the rule of law, but rather provides quantitative data on the violations of the Convention under different perspectives. For instance, in as concerns the setup and function of the judiciary, civil and political freedoms, respect for physical integrity and human dignity, the social rights and the guarantee of non-discrimination and equality. Some of these rights are violations of rights, let us say, are directly related to the economic crisis and growing inequalities, while others are structural characteristics of systems that, as such, become more vulnerable to the effects of the economic crisis or to the effects of the measures that are adopted to correct these inefficiencies. So I have, in the light of these failures, I have tried to identify four groups of cases that concern specifically Italy. Cases brought either before the European Court of Human Rights or before the other monitoring bodies of the Council of Europe. I already mentioned the Venice Commission. Earlier, the committee operating in the context of the European Social Charter was mentioned. In a number of cases, the applicants were relying on Article 6, so right to a fair trial, to complain that a new law had been enacted retroactively while the proceedings to decide on their claims were still pending before the domestic court. So there were certain cases before domestic courts, the certain legislation was introduced while those proceedings were pending. The assertion was that the legislature had encroached upon the jurisdiction of the courts. These cases concerned different aspects, but they were all related to financial resources of the state. They concerned pension rights. I'm referring to the cases Maggio, Cataldo, Biraghi, Stefanetti, lots of applicants, groups of applicants submitting these cases before the European Court of Human Rights. Cases of expropriation. Cases of expropriation, the case Cordino. Case of economic treatment in the public employment. I'm referring to Cali Jury case. Cases of criminal justice, salaries of criminal justice, salaries of judges, case Guadagno, or the withdrawal of financial incentives in the agricultural sector, Azienda Silverfunghi. In all these cases, the court ruled that while the legislature is in principle, not prevented from regulating through retrospective provisions, rights derived from the laws enforced, the principle of the rule of law and the notion of a fair trial under Article 6 of the convention preclude, except for compelling public interest reasons, interference by the legislature with the administration of the judges, designed to influence the judicial determination of the dispute. The court also underlined that retroactive measures must be treated with the greatest possible decree of circumspension, and more importantly, it also said that financial considerations cannot by themselves warrant the legislature substituting itself for the courts in order to settle the disputes. The second case, the second group of cases, or the second case, let us say, is concerns freedom of expression. You may already be familiar with the case Belpietro that ended up with the imprisonment of the director of the newspaper and the release of the author of the article who had expressed his views in his status, in his capacity as a member of the Senate. The court embarked upon a difficult task of finding the balance, the right balance, between the need to safeguard the role of tribunals because the object, the main subject of that article was the role of the judiciary. So to safeguard the role of the judiciary and tribunals in providing justice in a system governed by the rule of law and to address threats to public confidence and trust in judicial institutions, on the one hand, and the right to freedom of expression on the other. Once again, the court said that assessed this different interest from the perspective of proportionality and what is necessary in a democratic society, and concluded that there had been a specific violation of article 10, which is freedom of expression. But what is more interesting in this case is that the judgment prompted a law reform on the law on defamation, which was submitted then to the Venice Commission. So which provides opinions on whether certain legislations that are submitted to the to the Commission are compatible with the rights deriving from, with the rights and values protected under the Council of Europe. And the, in the opinion of December 2013, the Venice Commission underlined that while it is legitimate to restrict freedom of expression, this should be mainly carried out through civil sanctions rather than criminal sanctions. The third example concerns prison conditions. Another example in which rights are, there is a lack of protection of rights, an important example of this lack of protection in Italy. The case, the well-known case of Toregiani and others versus Italy, a case that was issued in January 2013, the European Court of Human Rights decided that there had been a violation of Article III, namely in human and degrading treatment, torture in human and degrading treatment, due to prison conditions experienced by detainees in Busta, Tarsitio and Piagetgenza. The problem was that there had been many, many other cases submitted before the European Court of Human Rights on the same issue in other prisons across Italy. And therefore, in view of the structural and systemic problem of overcrowding in the Italian prison system, the court decided to issue a so-called pilot sentence. This is a possibility given to the court in case there is a structural dysfunction, so therefore a widespread problem in a state, the court decides to provide such a, to give such a sentence. And by determining so, the court suspends its, abstains from deciding other cases within a year. So within a year, it gives the possibility to the state to address this situation without having to decide on the other, on the other cases. But this is possible, as I said, if there is a chronic dysfunction of the system on that particular problem, which of course was recognized in the case Toregiani. And so the period of one year will expire now in, shortly in January 2011. The fourth example concerns a restriction of social welfare benefits and discriminatory practices. In the most recent reports of the European Committee of Social Rights, the committee operating in the context of the European Social Charter, the committee has clearly underlined the inconsistency between EU austerity measures and the principles of the European Social Charter. This comes back to what Professor Kelly said. But it also underlines that these have an impact on the performance of the member states, and that is what the committee then addresses. In the 2012 report, the committee concluded that the situation in Italy is not in conformity with Article 1 of the Charter, on the ground that it has not been established, I'm reading here, that employment policy efforts have been adequate in combating unemployment and promoting job creation. In the same report, the committee also addressed non-conformity of the Italian government with the principle of non-discrimination, especially against non-nationals, so foreigners. In this latter regard, there is a recent case, which represents an interesting example under two perspectives. There was, in this case, a violation both of Article 6, so fair trial, and of Article 14, non-discrimination in conjunction with Article 8, right to private and family life. The case was brought by a Tunisian national who had entered Italy for lawful purposes, so a regular migrant, let us say. He applied for a family allowance, explaining that even if he was not a national, so an EU citizen, he was entitled to such allowance under the association agreement between Tunisia and the European Union. After the rejection of his application, he lodged an appeal, and then the case went before the Corte di Cassazione, and he sought a preliminary ruling from the Court of Justice, from the European Court of Justice, and Court of Justice of the European Union, on the interpretation of the Euro-Mediterranean agreement, and he wanted to determine whether he was entitled to such family allowance or not. Now, the Court di Cassazione, as a judge of last instance, didn't take at all into consideration this issue of the preliminary ruling, and from this perspective, the European Court of Human Rights found a violation of the right to fair trial. Well, but most importantly, from our perspective, is that Article 14, so the Court also found a violation of the non-discrimination principle, because it said that since this person fulfilled all the conditions for benefiting from being entitled to that allowance, the only ground on which his demand was rejected were nationality grounds. So the Court reiterated that very weighty considerations could induce it to regard the difference in treatment, exclusively based on nationality, as compatible with the Convention. Now, summarizing and drawing the conclusions from these cases in which there is a lack of protection of human rights, but more generally a lack of protection of the rule of law in Italy, but also as a generalized problem at the European Union level, but in Europe as well. These cases raise the issue as to whether and to what extent the rule of law, in its substantive construction as I defined it at the beginning, should be suspended or set aside to allow the government enough discretion to address economic crisis-related issues. More specifically, the question that I then leave open for discussion is, should judges protect private property rights and constitutional rights as vigilantly in times of crisis as in ordinary times? The approach adopted within the Council of Europe, at least from these cases that I mentioned, and from the European Court of Human Rights and the other advisory bodies, is that we should uphold the rule of law with special rigor in times of economic crisis, because the temptations of politicians to misuse their powers during times of crisis is very high. If the government is perceived as being unpredictable and unbound to rules, this has a negative impact on investments and economic recovery and encourages moral hazard. Moreover, sometimes short-term measures generally tend to become long ones, and therefore derogations to the rule of law tend to remain there. So it has been suggested, and of course this then will represent the, will be discussed later, or can be discussed later, is whether the rule of law may present as an enabler, as I said, as an enabler of inclusive growth, but also as an outcome of inclusive growth, can be perceived as this bridge over troubled waters that I mentioned in the beginning. Thank you. Thank you very much. Sure. Thank you. Also for this presentation. Thank you for this presentation which made clearly reference to, also to the jurisprudence, recent jurisprudence of international instances as regards the protection of human rights, with specific reference to the so-called rule of law. So thank you, Jolinda. I now ask, yes, I'd like to give the floor to Carlo Ruzzo of the University of Trent, who is going to talk about economic and social rights between the individual and the state, the role of civil society in times of crisis. And of course I renew my appeal to be within the 20 minutes, so I'm sure that Carlo will do it. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. dubbio qualcosa un po' diverso. Io sono un sociologo politico e come sociologo politico tendo a vedere la tematica di oggi, quindi il rapporto fra crisi, diritti fondamentali, diritti umani e la società nel suo insieme, tendo a vederla in un ambito più ampio e più complesso, quindi non tanto e non solo come un problema di produzione, di applicazione di norme, ma più generalmente come una serie di meccanismi sociali nei quali i diritti fondamentali sono parte di un meccanismo complesso che ha varie dimensioni che devono essere connesse e che devono essere connesse rispetto al sistema politico da un lato, alla società dall'altro, al sistema di produzione legale in una terza dimensione. Quindi cominciamo col dire che quando parliamo di diritti umani noi stiamo parlando di appunto una serie di meccanismi. Cosa sono questi meccanismi? Questi meccanismi sono innanzitutto il meccanismo di produzione di norme, di diritti, quindi produzione di quello che in inglese chiameremo legal entitlements, in primo luogo. In secondo luogo i diritti fondamentali, i diritti umani sono delle questioni che hanno a che vedere con le pratiche culturali, con la vita delle persone di tutti i giorni. I diritti non ci sono se non sono in qualche modo istituzionalizzati nel modo in cui la gente percepisce questioni fondamentali, quali possono essere questioni di genere, questioni di razza, questioni di disabilità, questioni di diritti sessuali, eccetera. Quindi i diritti sono negati nella misura in cui le pratiche culturali della società non le riconosce, non le rispette. In terzo luogo i diritti sono processi di istituzionalizzazione, di istituzionalizzazione in corpi dello Stato, in corpi della società che rendono questi diritti reali o non reali anche quando non sono visti. Per esempio si parla molto di comportamenti della polizia che sono comportamenti di ricerca del crimine in modo selettivo che punisce certe parti della popolazione piuttosto che altre. Queste non sono visibili, non sono parti di comportamenti diciamo di vita, di pratica culturale di tutti i giorni, però hanno un effetto molto importante. In terzo luogo i diritti sono processi di politiche pubbliche, sono processi decisionali di politiche pubbliche in cui certe cose sono messe in agenda, altre non sono messe in agenda, in cui certe forme di consultazione hanno luogo, su certe tematiche altre non hanno luogo. E in ultima analisi i diritti sono anche norme internazionali che quindi vengono prodotte, discusse, istituzionalizzate non solo a livello di Stato ma ad un livello molto più ampio. Ora in tutto questo meccanismo complesso di produzione, di istituzionalizzazione, di gestione dei diritti, ci sono molti attori importanti. Ovviamente il sistema politico, il sistema giudiziario, il sistema di produzione di norme, alcune istituzioni fondamentali della società, il sistema educativo, la polizia, eccetera. E quindi c'è bisogno di un qualche tipo di interazione fra la società nel suo complesso e questi corpi e queste norme. E un sistema di intermediazione importante è la società civile. La mia presentazione di oggi guarda in particolare il ruolo della società civile. La società civile come forma di garanzia della implementazione di questi diritti, di controllo sulla produzione dei diritti e altre cose che adesso andrò a sviscerare, ad analizzare. Come la società civile gioca un ruolo importante? Questa è la prima domanda. Lo gioca in vari modi. In modo principale lo gioca attraverso quattro meccanismi. Il primo è il meccanismo di attivismo giudiziario, quindi chiamiamo judicial activism, e quindi noi abbiamo per esempio delle corti dove si parla e si discute di diritti umani e dove le organizzazioni della società civile hanno un ruolo importante. L'hanno non solo a livello nazionale, la mia presentazione ha a che vedere soprattutto con l'Italia, ma l'hanno ovviamente a livello europeo e l'hanno a livello internazionale. E c'è una serie di referenze, una bibliografia, che guarda al processo di attivismo giudiziario. In secondo luogo la società civile è importante perché indirizza la sfera pubblica. La sfera pubblica, i giornali, la comunicazione televisiva dicono ai cittadini che cosa è importante e cosa non è importante. In terzo luogo la società civile ha un ruolo in attività di advocacy, quindi di rappresentanza all'interno di momenti di produzione politiche pubbliche. E in terzo luogo, in ultimo, in quarto luogo, la società civile è importante perché connette livelli di governo diversi. Per esempio, organizzazioni a livello di base, a livello cittadino, vengono a rappresentarsi in organizzazioni regionali, a loro volte in organizzazioni nazionali, a loro volte in organizzazioni europee, per esempio, e poi in ultima analisi in organizzazioni internazionali. Quindi la società civile ha un ruolo importante nell'aiutare, nel migliorare questa macchina di produzione e gestione dei diritti. La mia tesi fondamentale in questa presentazione di oggi è che questo ruolo è stato alterato dalla crisi. La crisi ha favorito certi gruppi della società civile piuttosto che altri, ha favorito certi diritti umani piuttosto che altri, e ha favorito certe priorità e ha marginalizzato molta della macchina di produzione e di implementazione dei diritti umani. E questo lo vorrei dimostrare semplicemente guardando un pochino più attentamente a quali sono le funzioni della società civile organizzata all'interno di questi ruoli che ho detto, all'interno dell'attivismo giudiziario, all'interno dell'attività nella sfera pubblica, all'interno delle attività di advocacy e all'interno delle attività di governance. Allora, cosa fa concretamente la società civile? Perché dobbiamo prendere la società civile sul serio? Perché la società civile organizzata in particolare, le organizzazioni del terzo settore? Perché fanno alcune cose che i cittadini da soli non fanno e che nel garantire i diritti umani sono importanti. La prima cosa che la società civile organizzata fa è provvedere al sistema politico informazione, informazione su gruppi particolari di popolazione. Per esempio, se noi diciamo che i diritti fondamentali dei migranti o delle minoranze razziali sono discriminati e non sono sufficientemente considerati, noi dobbiamo sapere quali sono le situazioni di questi migranti o di queste minoranze razziali. L'informazione nella società contemporanea è una risorsa costosa ed è una risorsa che in uno Stato che diventa sempre più piccolo, che rifugia sempre maggiormente dallo spendere soldi per l'acquisizione di ricerca, come sappiamo bene noi che siamo nel mondo universitario, è una risorsa che non è più facilmente disponibile. E noi abbiamo nella società civile un'alternativa per l'acquisizione di informazioni su gruppi particolari di popolazione che hanno bisogno di essere rappresentate in ambito di protezione dei diritti umani. Ora, cosa succede con la crisi economica? Succede semplicemente che molti dei soldi che erano disponibili a livello italiano, ma a livello anche, sappiamo bene, europeo, a livello anche inglese per esempio, sono spariti, non ci sono più, non sono più disponibili. Quindi la società civile non ha quei soldi che aveva anche solo dieci anni fa per fare quel processo di ricerca e di provvisione di informazione al sistema politico. Quello che succede, poi un'altra cosa che è per certi versi più interessante, è che siccome una buona quantità di soldi per fare ricerca sono stati tolti dal terzo settore in generale e dalla società civile in generale a tutti i livelli di governo, levare questi soldi ha però un impatto diverso su diversi ambiti della società civile. In particolare quello che è successo è che le organizzazioni più piccole, che sono spesso quelle più attiviste, che sono spesso quelle che sostengono i diritti umani, di particolari gruppi e popolazioni, sono più penalizzate delle organizzazioni più grandi. E questo è dimostrato da una serie di ricerche. E quindi abbiamo un terzo settore, abbiamo un mondo della società civile organizzata che diventa sempre più grande, sempre più istituzionalizzato, però anche sempre più garantito, sostenuto dallo Stato e quindi spesso sempre meno desideroso di essere conflittuale. E quindi questa è una prima dimensione importante. La seconda dimensione della società civile, della funzione della società civile, in termini di garantire, di facilitare i diritti umani, è il processo, diciamo, di monitoring in inglese, di accertamento delle violazioni, di comunicazione delle violazioni agli organi competenti. Possono essere la polizia nel caso di atti di razzismo, possono essere organizzazioni specifiche. Anche qui, levare soldi e levare visibilità alla società civile è qualcosa che è successo in molti posti e che ha avuto conseguenze disastrose. Lo vediamo in molti casi. Io per esempio, e per fare solo un esempio, potrei farne tanti, ho studiato il ruolo della società civile nel mondo della salute e soprattutto la salute dei migranti. Abbiamo fatto una ricerca in cui abbiamo comparato il ruolo della società civile in Canada, in Germania, in Italia. In Italia abbiamo guardato la distinzione fra Napoli e Trento. E cosa troviamo? Troviamo che dove ci sono soldi, come a Trento ce ne sono, in parte per l'autonomia, in parte per altri motivi, la società civile è in grado di compiere questo esercizio di monitoring molto meglio di quanto può farlo, per esempio, a Napoli. Perché mancano i soldi. Quindi, levare i soldi alla società civile ha avuto questo impatto. E ha avuto questo impatto, che ha un impatto, insomma, abbastanza disastroso in alcuni casi, soprattutto nel caso dell'Italia, per l'aumento di patologie connesse al processo migratorio, che sono abbastanza importanti, abbastanza rilevanti. Quindi, processo di monitoring. Un terzo livello di ruolo della società civile, che penso sia molto importante, è il processo di rappresentazione politica di gruppi di popolazione che non sono sufficientemente rappresentati dal sistema elettorale. Quindi, cosa fa concretamente la società civile? Per esempio, rappresenta cittadini che non hanno il voto. No, migranti illegali. I migranti illegali sono tanti. Sono tanti in Europa, sono anche tanti in Italia. Hanno problemi, hanno esigenze. Il sistema elettorale è relativamente sordo e cieco alle loro esigenze. Questo è per certi versi disastroso, ma è disastroso proprio perché vuol dire una violazione dei diritti umani di queste persone, in quanto non c'è un meccanismo istituzionalizzato di controllo, di supporto, di fornitura di risorse. E qui, ancora una volta, vediamo che questo processo di rappresentanza, diciamo non elettorale, la chiamiamo rappresentanza associativa, è un po' importante dappertutto. Avviene attraverso consultazioni nel sistema di politiche pubbliche. Queste consultazioni sono consultazioni che in alcuni casi sono istituzionalizzate. Per esempio c'è il sistema americano di accredited institutions, accredited associations, in cui alcune associazioni sono considerate come proprie, certificate, rappresentanti di certi gruppi e popolazioni. In altri casi questo non avviene in modo così forte. Per esempio a livello di Unione Europea c'è comunque un processo di rappresentanza nella quale le associazioni devono fornire alcune informazioni di base, devono dire che aderiscono a diritti fondamentali, eccetera. Però cosa è successo negli ultimi anni? Beh, fondamentalmente è successo che nelle ultime elezioni hanno vinto alcune forze politiche che sono relativamente sorde e cieche a questo tipo, a questa forma di rappresentanza. Per esempio l'estrema destra che è avanzata in modo significativo in posti dove non lo sarebbe stata fino a pochi anni fa. Penso ai paesi scandinavi con i suoi decidi democrati, ma penso anche a livello del Parlamento Europeo con le ultime elezioni. Bene, queste forze non sono interessate a queste forme di rappresentanza non elettiva e non sono interessate proprio alla protezione e alla difesa dei diritti umani. E quindi in questo contesto noi abbiamo una situazione di mancanza di rappresentanza che conduce ad un deficit di diritti umani. Un'altra funzione che hanno le associazioni è quella di aggregare il consenso. Cioè noi abbiamo fondamentalmente gruppi che hanno bisogno di essere protetti abbiamo una struttura anche legale per proteggere questi gruppi. Pensiamo per esempio all'articolo 13 del Trattato di Amsterdam ora articolo 19 che assicura protezione sulla base di genere, razza, disabilità, preferenze sessuali e religione. E qui abbiamo la potenziale problematica di conflitti fra diritti. I diritti fondamentalmente sono diritti che in alcuni casi producono conflitti. Una tematica rispetto ad un'altra può essere più o meno importante. Una tematica più di un'altra può essere più o meno finanziata. Per esempio abbiamo tipicamente un conflitto dove la protezione di genere era molto più forte dell'Unione Europea è diminuita in parte perché una certa quantità di soldi di attenzione è stata data a tematiche per esempio di razza o di sessualità. E ci sono tutta una serie di tematiche di questo tipo coperte dalla letteratura che sono molto interessanti. La società civile ha proprio la funzione di aggregare queste differenze in qualche modo di mettersi d'accordo nel fare richieste al sistema politico. E questo è un processo che è molto difficile molto controverso e nella misura in cui non ci sono soldi e vengono tolti i soldi alla società civile nel suo insieme al terzo settore vuol dire che le tensioni fra i diversi gruppi i diversi claims i diversi desideri diventano più forti. Diritti umani vuol dire potenzialmente la proliferazione di richieste da parte di un numero potenzialmente crescente di gruppi e noi dobbiamo in qualche modo fare questo da punto di vista diciamo della sociologia politica ma dal punto di vista più generale delle politiche pubbliche questo non diventi incontrollabile come processo perché potenzialmente lo può diventare e perché non diventi incontrollabile occorrono appunto meccanismi di rappresentanza meccanismi di monitoring meccanismi di allocazione di risorse nella misura in cui abbiamo una crisi forte questo processo diventa sempre più problematico un altro aspetto che è importante è tutto il discorso del ruolo della società civile nella advocacy e negli stili di vita nel modo in cui gli stili di vita di particolari popolazioni possono essere determinati influenzati orientati dalla società civile non so pensiamo al fatto per esempio che se noi diciamo c'è un diritto alla salute questo è un esempio c'è un diritto alla salute questo che è un diritto diciamo sociale un diritto economico questo diritto alla salute fondamentalmente è minato dal fatto che certi gruppi della popolazione hanno comportamenti molto costosi per lo Stato e completamente non salutari per esempio non so livelli di obesità molto alti in certi gruppi della popolazione oppure il fumo per esempio non si pone il problema del che cosa facciamo di fronte cioè in che misura vogliamo spendere i soldi per garantire il diritto alla salute in che misura vogliamo spendere i soldi per migliorare gli stili di vita e la società civile ha proprio questo ruolo molto importante nel diffondere nel diffondere cambiamenti di stili di vita che di per se stessi proteggono alcuni diritti umani e anche qui abbiamo il problema fondamentale che i soldi sono stati levati a molte di queste organizzazioni che facevano questo e l'ultima cosa che vorrei dire è il processo di advocacy il processo di advocacy è un processo fondamentalmente in cui ci sono delle forme di consultazione e in queste forme di consultazione vengono inglobati incorporati attori non statali pensiamo alle politiche ambientali per esempio o quasi la totalità delle politiche pubbliche europee adesso sono basate su processi di consultazione queste consultazioni possono essere dirette cioè da parte di organizzazioni esistenti a Bruxelles per esempio o possono essere indirette attraverso per esempio meccanismi di consultazione online allora cosa sta succedendo fondamentalmente sta succedendo che l'Unione Europea come l'Italia come tanti altri stati sono estremamente sensibili all'opinione pubblica e l'opinione pubblica è un'opinione pubblica che per via della crisi finanziaria è sempre meno interessata nei diritti umani è sempre meno interessata nei diritti di gruppi popolazione che sono maggiormente passibili di violazione dei diritti umani e questi gruppi vengono ridefiniti come interessi speciali non vengono definiti come interessi di tutta la popolazione non è più definito come universale il diritto per esempio alla libertà di non so dalla persecuzione raziale o il diritto di genere ma vengono definiti come diritti particolaristici e in questa situazione queste consultazioni diventano spesso sempre più marginali sempre più limitate sempre meno importanti teniamo presente una cosa che è fondamentale che quando noi abbiamo consultazione il problema fondamentale delle consultazioni non è tanto la consultazione per se stesso ma è come vai dalla consultazione alla decisione politica nel senso che tu puoi avere un processo in cui alcune migliaia di cittadini scrivono a Bruxelles avvocando un certo tipo di politica piuttosto che un'altra però poi ci vuole qualcuno che prende le voci di questi migliaia di cittadini le riassume e le dà alla commissione o le presenta al Parlamento e questo è un processo che normalmente per esempio a Bruxelles viene fatto attraverso delle agenzie o a volte dei privati che legano queste cose le riassumono e le presentano per cui migliaia di cittadini finiscono poi rappresentati in un documento di dieci pagine se va bene se non di cinque pagine questo processo di rappresentazione di condensazione della società civile di presentazione al sistema politico è un processo che può avere più o meno rilevanza ha avuto un momento di enorme rilevanza quando per esempio era di gran moda la democrazia deliberativa nel momento di a livello europeo per esempio poco prima del del trattato che è fallito del trattato costituzionale che è fallito con la crisi tutto questo discorso di democrazia deliberativa di democrazia partecipativa di consultazione ampia e sostenuta è semplicemente sparito e ha lasciato il posto alla crisi economica noi parliamo di crisi non parliamo più di deliberazione e nel momento in cui non parliamo più di deliberazione abbiamo levato la voce a quei cittadini che già non avevano voce e quindi da questo punto di vista e qua comincio a riassumere cosa vediamo vediamo che la crisi è un processo selettivo è un processo che ha creato una selezione una selezione che spesso non è operata intenzionalmente che non ha spesso facce e attori diciamo con cattive intenzioni che vogliono in qualche modo marginalizzare minoranze sessuali razziali quei gruppi di cui parliamo quando parliamo di diritti umani ma che però ha conseguenze reali ha conseguenze reali che sono le conseguenze della diminuzione di centralità nell'agenda politica che sono conseguenze di diminuzione di risorse che sono conseguenze e forse dovrei concludere visto che arriva il momento che ha conseguenze soprattutto nel rallentare nell'impedire quel processo di governance quel processo di trasmissione tra diversi livelli di governo dove la società civile ha un ruolo sempre più importante quindi abbiamo delle società dei gruppi della società civile a Bruxelles abbiamo dei gruppi della società civile in ambito internazionale che parlano a nome di gruppi che non hanno il tempo non hanno la capacità non hanno le risorse per consultare e questo appunto è ancora in ultima analisi una delle conseguenze della crisi per quanto riguarda l'architettura dei diritti umani quindi quando parliamo di diritti umani vogliamo senza dubbio parlare di processi di produzione legislativa però vogliamo anche parlare di questa complessa macchina che si sta interrompendo che sta arrugginando speriamo che questo processo venga poi interrotto quando la crisi un giorno passerà grazie grazie sono molto grato Carlo io non ho voluto come dire non sono voluto intervenire proprio per evitare intanto che potessero sorgere dei sospetti di discriminazione rispetto a un etero dosso che però ci ha insegnato molte cose peraltro diciamo è un caso che questa che questo convegno si faccia si faccia questa workshop si faccia qui da noi in la facoltà di giurisprudenza ma credo che come ha dimostrato il tuo intervento come quello di Andrea e come sicuramente farà anche adesso la Sara Lorenzini in realtà in realtà appunto siamo aperti perché cerchiamo di capire un pochino meglio anche noi giuristi come stanno le cose da tutti i punti di vista e quindi quindi grazie ci torneremo vorrei lasciare un po' di spazio più tardi al dibattito e quindi do sicuramente la parola a Sara senza nessun atteggiamento discriminatorio o intimidatorio ma le chiederei di rispettare i suoi tempi grazie tempi che le sono dati Thanks a lot Thanks a lot for inviting me I will talk in English I won't It's your task because English It's The official language Yeah English is shorter Yeah If it's your If it's your own language you're quicker If it's not maybe not that much So My question today the real title of what I would like to talk about is the subtitle here How the Economic Crisis Affected Development Assistance Policies in Europe and in Italy in theory but I will keep it so short that you won't even notice any difference Udo Reifner talked about the right to have a future and so I would really love and if I was a legal expert I would have loved to talk about the right to development which emerged or had its golden age in times of crisis in the 1970s but since I'm not a legal expert I'm not going to do this and I rather want to take a look at a question at a paradox the right to development is not contested at a central level not as much as we might expect in times of crisis so why this? and this is my question and this is what I will try to explain or find possible answers to in 10 minutes from now sorry if I'm going to be quick and I'm not going to tell you much let me start by a quote by quoting the development commissioner Andres P. Boggs former development commissioner in a post on his blog dated August 22nd this year he says every once in a while I meet people who ask me why does the EU spend part of taxpayers' money abroad when there are so flagrant needs within its own borders and this is the point isn't that and his answer to his question is well it does make sense because of the excellent results of EU development efforts against poverty and it does make sense because it does make sense to implement the EU's vision for a decent life for all by 2030 we've been mentioning all these concepts earlier in the morning so you will see many will come out in a different shape in what I'm going to say now I think however much more telling are the results of the Eurobarometer I suppose everyone here is familiar with the Eurobarometer which is a large public opinion survey conducted in all member states and there was a special Eurobarometer on development aid on foreign aid called Making a Difference in the World Europeans and Development Aid and the results were published in the mid of the crisis or rather when the economic crisis had started and started to sound much more in Europe and the results were published in November 2011 after two years from the beginning of the crisis and the Eurobarometer points out that Europeans support the efforts of helping people in developing countries nine out of ten these are I'm quoting data think that this that development aid is an important task actually the severity of the economic crisis was partially reflected in the results we will take a closer look at the case of Italy in a second but nevertheless the vast majority of Europeans 64% are still calling the European Union and the member state to stick to the famous 0.7% cent target of gross national product or gross national income actually now which is the ideal percentage that European countries and OECD countries promised to devote to foreign aid to development assistance and this support for development is slightly higher in the so-called EU 15 countries the first member states having historical bonds with developing countries and is also slightly higher in terms of population groups among younger and better educated Europeans these are these two elements of the general picture of the general results but what about the countries which are most harshly hit by economic prices and for example what about Italy and here I want to start with the Eurobarometer as well and this is the only chart I will show you if it works yes that's it okay so this is the data on Italy Italians' opinions on future development aid as you notice during the crisis the percentage of those asking for a decrease in aid has risen but still a majority holds exactly the opposite view and asks for more aid to developing countries why let me say that Italy historically has a very as an historian at least I will talk a little about history has a very sad record in terms of ODA official development assistance and I will quote here the report the peer review 2014 of the development assistance committee the committee of the OECD that deals with foreign aid that shows and these data show the impact of economic that the impact of economic crisis is actually visible in Italian performance I will read some data not show but just read Italian ODA decreased between 2008 and 2012 from US dollar 4.86 billion to US dollar 2.74 billion representing 0.14% of its GNI down from 0.22% in 2008 so by far very far from reaching the 0.7% target that is the ideal this ideal quota the very large share of Italy's ODA is channeled to the multilateral system and especially through the EU institution that are the main channel by far and that received 42% of Italy's gross ODA disbursements in 2011 so most of the Italian funding for aid for foreign assistance goes to the EU institutions actually not through bilateral channels the bilateral aid and quite surprisingly it's the only other data I quote from the aid report because I have to keep it short Italy's private flows are far greater than official flows to developing countries and represent almost two-thirds of the total financial flows flowing from Italy to developing countries and in terms of how much does crisis affect aid flows from Italy it is quite interesting that grants to developing countries from private charitable organizations foundations NGOs have increased over time during the crisis at least in nominal terms from US dollar 63 million in 2007 so before the crisis hit to US dollar 111 million in 2011 okay the poor performance of Italy in terms of ODA is not surprising and is not actually a matter of the economic crisis this perform the bad performance of Italy in terms of aid is actually proverbial in the early 1960s Italy was very often scolded in the dark because of this poor performance and Mr. Egidio Ortona you're probably familiar who was for a long time head of the Italian delegation and one of the most prominent Italian diplomats in fact not only at the time in general as this is however my personal opinion so usually what did he do usually pointed at the mezzogiorno or as the economists used to say at the time Italy's dual economy problem as the reason why Italy could give so little aid to developing countries in the 1960s an economic crisis meant and implied a reduction of aid and so did the same happened in the 1970s still at the time Italian public opinion was always in favor of aid and US diplomats in the Kennedy years often quoted this fact as a very positive element and that could somehow compensate a rather stingy attitude of the Italian government and the favorable attitude of Italian public opinion is true even now even if possibly less than it used to be in the 1960s and let me quote and I'm moving towards the conclusion as an example as a striking example the debates in parliament during the discussions on the brand new law government development aid substitutes previous legislation and also renames the role according to the new role the ministry of foreign affairs that has become ministry of foreign affairs and international cooperation and well here during the discussions there was hardly any reference to the idea of limiting resources because of the economic crisis it is true that the law does not really imply increasing the amount of aid but it's more about rationalization institutional rationalization but still it was it is quite striking there were just two times one time for the second time the Lega Nord there were two short objections that were explicitly linked to the economic not very explicitly but were linked to the economic crisis and to the fact that actually there are no resources to devote to development aid and the second I want to mention the second objection the Lega Nord objection the Lega Nord requested a more explicit link between development and the aim of containing or stopping was the word immigration okay so this is the final well actually my argument so why why are people in Italy and politicians in Italy not talking as much as we might even expect about reducing aid because the expectation exists is exactly this in the Euro Barometer Italians there was a question about the link between migrations and European aid to developing countries and the Italians were the ones that stated that there is well quite 20 something percent of the Italians stated that there was a connection between migration policies and development aid policies so this is what I think is the missing link in explaining why actually the right to development and development aid is not as contested in Italy neither in parliament nor in public opinion because the idea is development aid helps with migration problems it helps containing migrations if we aid people on the other shore of the mediterranean they won't come to us to ask for aid so this is my main argument and with this I conclude hopefully in time thank you thank you for these interesting observations and also for keeping everything short your presentation sure you will have time to discuss it further maybe we have inaugurated a prassi that probably will have needed time to affirm that was the call for questions we have received in reality poche domande però io credo che il dibattito alla tavola rotonda si possa sviluppare intanto certamente con interventi da parte del pubblico quindi chiederei presentandovi di dire di fare i vostri interventi questa breve breve tavola rotonda la chiamiamo tavola rotonda per comodità di linguaggio in realtà colui o colei che farà la domanda magari può anche dare indicazioni su chi potrebbe offrire la risposta chi desidera intervenire Luisa ah no Nino Luisa subito con Nino ok vedete voi Luisa Antonioli ci riconosciamo lo facciamo in italiano sì come vuoi più che una domanda inizio a ringraziare per il lavoro che stanno facendo che hanno svolto durante tutta la mattinata è un po' un'osservazione dopo aver ascoltato tutti questi interventi tutti molto interessanti ed è che mi pare che ci siano una serie di temi ricorrenti in questa discussione delle crisi nei suoi vari aspetti uno è la complessità nel senso che da molte delle relazioni quella riguardante il rapporto per esempio tra la tutela dei diritti fondamentali a livello di Unione Europea e Consiglio d'Europa la relazione di Carlo sul ruolo della società civile rispetto alla tutela istituzionalizzata dei diritti fondamentali il rapporto che sarà appena fatto sulle tutele diciamo le tutele di diritti fondamentali in loco rispetto a quello dello sviluppo della tutela dei diritti fondamentali al di fuori dei confini europei mi sembra che sia un dato veramente strutturale e che pur essendo ineliminabile ci deve come dire far accendere una lampadina sul fatto che nessuna soluzione in sé è sufficiente cioè che se si vuole davvero affrontare questo problema le soluzioni sono tante e complesse e tutte correlate l'altra cosa è che mi pare che da molti degli interventi esca fuori la questione del rapporto fra procedura e sostanza cioè in molti casi gli aspetti problematici che venivano fuori derivano dal fatto che può darsi che ci sia la necessità di intervenire sui diritti fondamentali e se non comprimele comunque diciamo ponderarli questo è venuto fuori molto chiaramente dalla relazione di Andrea Fracasso ma la procedura è un elemento fondamentale quello che secondo me è particolarmente critico e anche Udo diceva nella sua relazione è il fatto che gli strumenti che si sono posti in essere adesso finiscono proceduralmente per avere delle caratteristiche tali per cui necessariamente la soluzione non può essere accettata perché non è condivisa e noi abbiamo fatto quest'operazione come sempre lastricando le vie dell'inferno delle migliori intenzioni abbiamo detto beh ma le procedure che a livello di Unione Europea non funzionano bene perché mancano le competenze c'è un deficit democratico perciò queste sono cose degli stati ma siccome poi la soluzione della crisi è una soluzione europea quello che abbiamo fatto abbiamo bypassato anche le strutture europee ed abbiamo messo in piedi un meccanismo che non risponde neanche le garanzie del livello europeo come mette in rilievo Fischer-Lescano quindi questo rapporto fra definizione del contenuto dei diritti e la procedura secondo me è un aspetto fondamentale quindi per me sono venuti fuori un sacco di spunti importanti e che credo che in qualche modo sia un filo rosso tra tutti gli interventi quindi vi ringrazio molto grazie mille l'unica cosa che vorrei dire velocissimi no no vorrei dire che quello che appena detto Luisa in effetti coincide anche con quello che aveva detto all'inizio Paolo quando aveva detto siamo del tutto sicuri che la situazione lo status quo il mantenimento dello status quo costituisca comunque sufficiente tutela dei diritti umani insomma è un po' la prosecuzione del discorso che facevi tu ma mi sembra estremamente interessante potrebbe essere ripreso Nino grazie sarò velocissimo intanto vi ringrazio e poi devo dire ho imparato tante cose sono tante cose varie relazioni in particolare mi è piaciuto mi sono piaciuto tutte le relazioni ma è stato abbastanza interessante e divertente vedere come ha spaltato sostanzialmente il tavolo l'intervento di Udo Reifner quando specialmente utilizzando questo schema della slavery da parte di una parte di stati nell'Unione Europea anche nei confronti dell'altro proprio per sintetizzare al massimo ha rivisto completamente la vicenda e questo è particolarmente interessante però a un certo punto guardando anche il titolo mi sono posto il problema ho pensato all'austerità e ho pensato al contrario dell'austerità il contrario dell'austerità e la prosperità pensavo a un titolo interessante per un nuovo convegno che potrebbe suonare così in time of prosperity is wasting money contrary to human rights sto dicendo in altri termini che abbiamo passato decenni a sprecare denaro pubblico politiche redistributive tremende con un sistema politico che si è autoalimentato e che non ha per nulla pensato alle generazioni quali quelle che devono ancora nascere questo è totalmente contrario ai diritti umani in questa prospettiva così come in quel titolo è contrario ai diritti umani però badate bene questo è un modo ottimo per banalizzare completamente il tema dei diritti umani nel senso che è ovvio che tutto questo è contrario ai diritti umani alle nuove generazioni e anche alle vecchie ma badate in maniera estremamente ampia quando di regola il giurista che si occupa di protezione internazionale dei diritti dell'uomo si occupa di temi della violazione dei diritti umani si confronta di regola non sempre di fronte a provvedimenti specifici che riguardano o anche atti generali e astratti cioè leggi quelli che volgarmente chiamiamo leggi nei confronti di categorie limitate qui ci troviamo di fronte a provvedimenti che abbracciano sostanzialmente lo diceva Andrea prima l'80-90% della popolazione i dati erano impressionanti e non riguardavano soltanto l'Unione Europea abbiamo una contrazione mondiale che determina un impauperimento generale di una determinata classe sociale la media e questo dovuto al fatto che dopo la seconda guerra mondiale sono state utilizzate tutta una serie di politica questo volgarmente da alcuni viene riletto come le politiche neoliberiste o altre ma io ritengo che c'è tutta una discussione da farsi sul problema dello spreco di denaro pubblico a cui si assiste quotidianamente l'attenzione che c'è in questo momento nell'Unione Europea non è soltanto l'attenzione tra chi vuole la schiavitù e mettere sotto scacco alcuni stati nei confronti di altri è un certo tipo di politica che non tiene assolutamente conto interessi molto forti che sono quelli delle generazioni scusate chiudo velocemente un altro punto nel paper particolare di Lescano a questo punto l'aveva sottolineato Paolo Turrini vi è il problema delle eccezioni e delle sospensioni dei diritti ora non dimentichiamo esistono sospensioni di diritti prima e di seconda generazione che non sono salvo quelli che noi conosciamo come diritti inderogabili esistono esistono delle situazioni dove c'è un interesse pubblico molto forte dove ci sono ragioni di ordine pubblico sicurezza nazionale così vi dicendo la sicurezza nazionale vogliamo tirarla in ballo sicurezza nazionale in uno stato moderno composta dalla sicurezza politico-militare economica e la sicurezza energetica è un default per immaginare altre situazioni che non siano di sicurezza economica in senso pieno per uno stato avrei cento altri spunti ma mi fermo qui grazie grazie Nino sì certo il problema è che quello che è stato più volte evocato è quello della stabilità sociale oltretutto fra le altre questioni chi altri voleva intervenire Marco Dani il professor Dani una brevissima osservazione che è legata al fatto che in tutta la discussione questa mattina l'impostazione grossomodo è stata austerità o politiche di aggiustamento strutturale versus diritti fondamentali e badate questo è un modo che io condivido di impostare il problema c'è però probabilmente da guardare la relazione tra politiche di aggiustamento strutturale e diritti anche da un altro angolo che potrebbe divenire rilevante alla luce degli strumenti che più recentemente l'Unione Europea ha adottato faccio riferimento in particolare ai regolamenti del 2013 che hanno comunitarizzato in larga misura le misure di aggiustamento strutturale cioè il memorandum of understanding perché questi strumenti individuano una relazione un po' più ambigua tra diritti fondamentali e austerità perché comunitarizzando questi strumenti come è stato fatto quello che è probabile che accadrà è che quello che la Corte di Giustizia aveva affermato nel caso Pringolo ovvero che i diritti fondamentali la Carta di Inizia non si applicano ai memorandum of understanding verrà rovesciato introducendo questi strumenti all'interno del diritto dell'Unione Europea la Carta di Inizia troverà applicazione quello che però è possibile prevedere è che l'applicazione della Carta di Inizia non fornirà la tutela equivalente che ci si potrebbe aspettare ad esempio dall'applicazione delle Costituzioni nazionali ma offrirà un tipo di tutela più ridotto un tipo di tutela più ridotto perché il record dell'applicazione della Carta di Inizia ad oggi non è strabiliante se guardato appunto dal punto di vista della garanzia dei diritti e quindi c'è la possibilità che l'utilizzo dei diritti fondamentali invece che essere uno strumento che si contrappone e cerca di bilanciare le politiche di austerità rischi di diventare uno strumento che le rafforza dal punto di vista retorico gli stessi strumenti fanno riferimento alla necessità di tenere in considerazione determinati diritti si fa ad esempio riferimento all'articolo 9 del trattato la clausola sociale proprio flirtando con la retorica dei diritti fondamentali al fine di appropriarsene ecco il rischio è quello che questo tipo di appropriazione finisca poi per finire in una sostanziale diminuzione dei diritti e in un depotenziamento di giurisdizioni come quelle delle corti costituzionali che ad esempio nel caso portoghese hanno dimostrato di guardare con maggiore serietà al problema della tutela dei diritti grazie Marco di nuovo ho evocato questo problema di chi tutela di più se tutela di più l'ambito europeo oppure bisognerà tornare come pure è stato detto a delle tutele da parte delle corti costituzionali statali che magari in determinate circostanze potrebbero essere più attente e potrebbero anche essere più efficaci visto che appunto anche Nizza diciamo aveva e ha i suoi i suoi limiti per scindere poi dalla retorica europeista che ogni tanto viene utilizzata però questo problema della comunitarizzazione che era stato evocato anche nel nel paper di Fisher-Laskan in effetti potrebbe avere dei come dire degli effetti collaterali dando l'impressione che ci sia una maggiore tutela ma in realtà diminuendo il grado di tutela altri interventi sembra che più che domande siano state osservazioni molto benvenute peraltro alle relazioni che sono state presentate oggi dovremmo fare un altro convegno darsi che lo si faccia Michele Michele Dottor Gagliardini Buongiorno a tutti mi ricollengo all'osservazione fatta dal professore Ali circa la sicurezza economica come uno dei tre aspetti della sicurezza della nazione insieme a quella militare ed energetica e come Paolo notava è difficile o meglio è molto agile affermare la non giusticiability dei diritti economico e sociali non altrettanto per i diritti politici e civili che sono appunto sottoposti al sindacato di più giudici chiamiamoli così riferimento all'acenno nello specifico l'articolo 15 premende la possibilità di Nerona in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione testualmente leggo la sicurezza economica quindi una grave crisi potrebbe qualificarsi potrebbe vedersi come situazione di grave pericolo grazie Michele questo è sicuramente un problema da porsi dal momento che abbiamo visto che il concetto di sicurezza è un concetto oramai che si amplia di giorno in giorno abbiamo visto che anche la sicurezza sanitaria sta diventando un può diventare in determinate circostanze un attentato alla pace e alla sicurezza e quindi è chiaro che anche la sicurezza economica come elemento al venir meno del quale aumentano le instabilità sociali potrebbe in determinate circostanze direi estreme costituire una quantomeno una scintilla per poter poi doversi preoccupare della diffusione anche a concetti più ampi come quello del mantenimento della pace e sicurezza internazionale bene se non c'è altro io inviterai il professor Juerges al tavolo in modo che volete rimanere oppure non c'è problema come preferite così vediamo di concludere in orario questo nostro incontro che è stato a mio modesto avviso di grandissimo interesse per diverse ragioni intanto perché appunto siamo riusciti ad avere diversi punti di vista su temi enormemente complessi e che però rispetto a ciascuno degli approcci utilizzati ha chiaramente dimostrato l'esistenza del problema in quanto tale io darei la parola al professor Juerges che ha gentilmente accolto il mio invito a tracciare delle conclusioni e proverò poi a chiudere ringraziando ancora una volta tutti per questo workshop che a mio avviso ci ha dato ci ha offerto molto intanto però vorrei cedere la parola al professor Juerges che parlerà non so se in italiano in tedesco o in inglese ma il suo italiano è perfetto parlare l'ostacolo fra questo convenio e il pranzo allora è difficile no io per il mio italiano basta una bella chiacchierata però dopo si finisce allora io torno all'inglese un un strumento non è una lingua veramente un strumento di lavoro ok now thank you really very much for this I appreciated coming especially together with my colleague from Bremen Fischalescano I had prepared and have prepared on paper the kind of discourse I was thinking would emerge and it did so emerge because we have in Bremen this separation between everywhere between on the one hand the human rights people and public law people and constitution blah blah and on the other hand we civilists civil law people down to earth caring about the economy and these kind of trivial things and there is a tension in how to approach these things and what I observed here and I have written it down and I have in yellow all sort of signals is how this human rights discourse was not discredited but was embedded in two broader discourses and then it makes sense Paolo Torino ha cominciato con questo proprio perfettamente anche con gli stessi argomenti allora io non devo ripetere però io vorrei ma adesso ho cambiato senza volere in italiano deve essere il contesto no I'm more precise in english because what it is very difficult to do these discourses especially in our situation now and especially and I find this one of the really dramatic problems of the crisis of the relations between Italy and Germany that is terrible that is terrible and there is a tension which is building up and is resurfacing old stereotypes and so on and so on one has to be careful one has to be honest and to say what do we think the other thinks and what does understand me and this is why I accept gladly to him now my summary of the interventions is more or less in my computer and I do not go into that I want to dramatize the state we are in and simply repeat we started with violations of human rights okay the powerlessness of the ought right this is something which we have in human rights discourse and they get more flesh now we have more more and I was particularly grateful for the discourse on the destruction of the rule of law which I find something which is going on the principle of conferral one of the basic principles of the European construction is no longer valid in the crisis we have not talked about supremacy but we have talked about the Merkel message right a international law kind of regime outside European Union law how can you Udo Reifner will know the Trump he doesn't listen to me the doppel start you know it has something of that there is a second regime and they conflict and in the stability and growth pact it says we respect European Union law they do the opposite okay the principle of supremacy is basically at stake when you start to build up a second regime a crisis regime I would I can come with many more budgetary power of parliaments I disrespect conditionality came in in Udo Reifner's talk conditionality was a plan insolvency plan but conditionality is the opposite of the kind of thing he had in mind conditionality is imposing something and I have heard a Greek colleague talking about zero choice democracy I think that is very nice for a memorandum of understanding zero choice understanding you have no choice okay all these things happening and we have even we have in German wonderful expression anti constitutional unconstitutional constitutional law conditionality is something because constitutionality is in the treaty the ECB he has called it a constitutional monstrosity ECB that is a strong expression the Italians do these things we Germans love our Bundesbank okay the list is not complete but now is a point I want to make and I think that is the sort of summary we all observe this and okay the economists are the first to say well look this doesn't happen by chance this is not simply seen by relation of the rule of law we are acting under a lot of constraints and we have to admit that if we would adhere to the law as written down things would also be worse maybe even worse we don't know this would be great if they were in with that now my conclusion is we should qualify this situation we're in as a state of exception really and this came up a couple of times where you started Paolo with addressing this in substance saying I see there is something wrong here but I understand why they do this and they have no choice now this is I think also a line of arguments I could draw from it what is this state of exception in Carl Schmidt Carl der böse has invented this but even Carl der böse when he wrote on the state of exception in the late 20s he added it is then important if we realize it is a state of exception and we realize people take emergency powers what does the ECB do they redistribute money all around the place and they do all sorts of things we do what it takes to save the euro what kind of legal principles we have without any treaty change received a new economic constitution I don't call it an institution why do we get austerity and so on it is acting under these constraints now the Schmidt even Schmidt said well if you run into that state of emergency said any liberal democracy will experience this at some point the Americans after 9-11 are an example and so on the real point is how do we get back into a constitutional condition and I think a lot of the debate here or a lot of the elements I have written down of course we are all selective I've written down what I wanted to hear but I have seen the signaling of okay we cannot turn back history this happened the euro in my modest opinion was a huge mistake but the mistake is done and once a mistake is done you have to face the consequences the consequences are the state of emergency now and the task for us now is to find ways to communicate make us understand the situation and to understand how one can get out of it I will not I have I characterize what we have now in my writing as authoritarian managerialism I love as Danny knows Herman Heller who has invented authoritarian liberalism but this is not liberalism it's interventionist it is discretionary interventionism managerialism now in order to get out of this I say we and this I have heard or wanted to hear a couple of times there are new conflict constellations in Europe and the real task of law could be to help people to articulate these conflicts and at that point I also come back to human rights and constitutional courts Andreas Fischalev Cano has of course a big love for the Portuguese court but it is true that these constitutional courts all over Europe are guardians of constitutionalism in Europe so one thing they can invoke as a common European heritage and tradition is indeed the core of constitutional rights and even proportionality and the constitutional court I couldn't read all the judgments I'm translated I'm not but it is not the last one who will do that and I'm predicting that this will go on in other courts too these are just the courts I of course have some hopes in social partners in trade unions and there is we have done such there is some element of transnational cooperation between the trade unions right now and I have also hope in parliaments parliaments who start to realize of course they have institutional interests they want to defend institutional interests but they also are huge for public debate and deliberation and what is happening is that also the national parliaments step up the German parliaments I happen to know one of the green members of our Haushalts financial committee he said they get bombed with loads of files and say next morning we want your decision again emergency right okay but these people also insist no at least this can at best be provisional we must have the right to discuss parliaments trade unions courts there are more actors really interesting what civil society will do civil society will wake up to at least it is so incredible what is all happening and there is I don't believe that there is a bit of solidarity only what people I think have started to mistrust deeply is all this everyday the crisis is over the green light is the horizon they don't like that they don't believe that they like it yes no I do believe that we will have a politicization all over Europe it is not what we have now is not yet the deliberative European space it is rather a very very problematic interaction but it can become better okay the law I'm a lawyer I believe in law and I hope that indeed the understanding of the new conflict constellations and the fighting out of the new conflicts will produce some productive energies and also some new ideas how to connect history is something unpredictable this is our hope right that people will not tolerate the destruction of democracy civil rights and the social entitlements everything that made Europe a better place is under threat and people I hope will resist okay I stop here thank you again that's probably thank you very much it was not me I would like calling you grazie si direi che si molte delle osservazioni del professor che sono assolutamente condivisibili si tratta di capire ovviamente non saremo noi non possiamo essere noi a a dettare o a trovare la soluzione a problemi enormi anche se io credo che confrontarsi e ritornare a una a una civile consultazione cosa che come diceva giustamente Calloruzza va sempre scemando nei momenti di crisi perché si cerca comunque di apparire decisionisti di apparire in grado di trovare le soluzioni ai problemi io mi auguro invece che la consultazione soprattutto in nome dei diritti delle nuove generazioni perché se sono poco protetti i deboli che oggi però ci sono ancora meno lo sono senza retorica ovviamente coloro che dovranno venire dopo e se ci preoccupiamo tanto come giusto sia che sia per per esempio per le questioni ambientali in relazione proprio alle generazioni che verranno credo che a maggior ragione dovremmo occuparcene in relazione non tanto all'assicurare alle generazioni che verranno uno straordinario stato di welfare quanto a tentare di fare in modo che gli eccessi e i privilegi che sono stati creati da questa generazione non vadano a discapito invece delle più elementari condizioni di esistenza delle generazioni a venire non credo di dover aggiungere molto se non ringraziare ancora coloro che hanno partecipato ringraziare molto il ministro De Martino e il comitato interministerio per i diritti umani che ha visto in questo in questo workshop ha creduto in questo workshop ha scommesso su questo workshop e credo che i risultati gli abbiano dato ragione ringrazio molto anche le interpreti che ci hanno assistito in questa mattinata intensa direi e in attesa di ritornare eventualmente su questo tema vi saluto e vi do appuntamento al prossimo evento che sicuramente faremo anche su questi temi e che non li dobbiamo fare non li dobbiamo sottovalutare grazie 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 a tutti